I militari della tenenza della Guardia di Finanza nel corso di un controllo su strada attuato nell'ambito del dispositivo di contrasto e traffici illeciti finalizzati alla repressione della criminalità diffusa hanno tratto in arresto un soggetto per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato 154,600 kg di marijuana e 350 g di hashish. In particolare i finanzieri impegnati sulla statale 106 intimavano l'Alt ad un autocarro telonato guidato da un uomo di nazionalità albanese che sin da subito mostrava agli operatori evidenti segni di agitazione. La circostanza ha fatto sì che i militari, anche sulla scorta delle dubbie e motivazioni fornite dal soggetto circa le ragioni del viaggio, eseguissero un'accurata ispezione del mezzo con il supporto dell'unità cinofila a disposizione. Proprio l'infallibile fiuto del cane antidroga C-Quanto portava al rinvenimento di 15 involucri di varie dimensioni contenenti all'interno 150 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 350 g circa di panetti di hashish. La droga era stata abilmente occultata dallo spacciatore nel castone dell'autocarro in un capiente doppio fondo congegnato appositamente per trasportare lo stupefacente, coperto poi con liste di legno e chiuso in sacchetti di cellofan per cercare di eludere, evidentemente in vano, i controlli tramite cani antidrogue. Il responsabile GM di anni 32 di nazionalità albanese tratto in arresto in afflagranza del reato è stato associato presso la casa circondariale di Castro Villari e adesso rischia la pena di reclusione che va da 6 a 20 anni di carcere. Oltre alla sostanza stupefacente, che ha un valore commerciale stimato in oltre un milione di euro, sono stati sequestrati tre telefoni cellulari con rispettive SIM, probabilmente utilizzati per contattare gli acquirenti, dieci banconote da 50 euro l'una e l'autocarro utilizzato dal trafficante.